Bella ragazzoni, qui è lo Zanone Nazionale, come state? Spero tutto bene, regà. Siamo ritornati oggi con il backstage della Weekend League, non tante partite in realtà perché un po' l'ho giocata off-stream perché vengo da una live dove abbiamo giocato tutte e venti le partite sul secondo account cosa che probabilmente vedrete lo stesso su questo canale nonostante io abbia streamato poi senza webcam però alla fine Zanorewind è nato per questo, Zanorewind è nato per condividere i momenti delle mie stream per chi non riesce magari ad essere presente, quindi in questo periodo va così però è sempre un contenuto carino da vedere, nonostante non ci sia la cam, ci sono delle partite che fanno molto ridere poi ovviamente c'è, almeno il microfono c'è. Detto questo, vi faccio vedere la squadra che sto usando, squadra che già è stata vista e rivista squadra che è stata vista e rivista, però ragazzi, è una bella squadra, che ce devi fare? è tipo una delle migliori squadre penso che tu possa avere al momento su FIFA e regà, io non me ci trovo bene, momentaneamente sto a 6-0 tanto io ho fatto un 16-4, 2-19-1, quindi meglio di così c'è il 20-0 cioè diciamo che l'upgrade è quel game a culo che poi perdi settimanalmente a meno che non rifai 16 però noi andiamo a giocare, io sto 6-0, dipende dalla velocità delle partite però in teoria il mio programma è di farne 5 non vi ho fatto vedere il primo team perché so scemo, regà, non ci fate caso prima partita comunque, vediamo come va questo fischello mi pare pure bravo onestamente parlando che problema c'è ragazzi? che problema c'è? è solo un Bappeif, 2 milioni e 4 ragazzi te fai lo squadrone, te lo potenzia al massimo e poi te gira peggio di quella più scarsa cioè è proprio un classicone di FIFA contro un avversario che comunque sembra bravo perché bello Zidane, va bene perché il mio avversario in questo momento sembra comunque in grado di giocare e queste sono occasioni che segni sempre va bene, sei perdonato, ma solo per oggi eh, solo per oggi bellissima Zinedine Zidane padrizione, che palletta per Zinedine mamma mia che golletto di Zidane che golletto di Zidane infermabile primo tempo solido tre pere un tiro ha fatto stiamo giocando abbastanza bene la squadra gira doppietta di Zidane secondo tempo ah bel gol è riuscito a tirare Kylian Mbappé la partita è tosta, ho detto non è semplice per un cazzo infatti è sempre letale in realtà la mia cavalcata al 10-0 ci sono delle partite letali in mezzo clamorose vai Shrek mamma mia ma il sinistro tembappe if mi è inguardabile bravo Gigione bravo Gigione 7-0 ho detto 3-1 alla fine non ho manco più segnato la partita è finita così ma do il 7-0 è sempre letale io faccio sempre 7-1 regà sempre c'ho il fetish del 7-1 se vede che sto romanista all'isone vandai calabra cap de vila Renato Sanchez De Bruyne Mbappé Ronaldo Dembélé Neymar Walker è una bella squadra è una bella squadra e ci ha futta nel nome che palle cammina regà mamma mia che gol signori mamma mia che gol che ho preso donnarumma che si fa fregare su quel palo lì che c'è proprio letteralmente non c'era angolo guarda che cosa ha preso ma che fa no dai regà regà ma che fa Zitane Cristo ma poi ma che cazzo ha preso Alaba non c'ho cioè non sto capendo regà non sto semplicemente capendo questa partita KDB KDB bene meno male che siamo riusciti a pareggiare prima del primo tempo regà ne sono successe di tutti i colori qua un tiro ha fatto uno ma che intervento è skill nell'1 triangolo da 850 metri girato di spalle che non si sa come l'ha presa con Van Dijk mio che va completamente lungo skill ma regà ma basta Van Dijk sotto le gambe basta dai incastrato L1 triangolo Ronaldo dai lo so t'ho visto ma che parata è no no raga dai no raga dai dai raga su oley bella sconfitta ottima cioè è inutile la partita la partita per l'8-0 non si può vincere torlupara mi fratello vediamo la squadra Mike Mignon Bonucci Screen Hardest Chiesa Zeco Leao Marchisio Gosens una bella italiana con tutte carte speciali ci sta no vaffanculo ma chi è Bonucci regà Bonucci regà Bonucci sta a correre quanto Haaland regà Bonucci corre quanto Haaland regà Mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi cioè ma come devo tirare ha parato cioè hai riuscito hai riuscito a parare all'esterno destro buggato non para oh mamma ma guarda sto sto veramente impazzendo oggi sto impazzendo io non me le devo fare le squadre così forti non me le devo fare perché poi mi fanno tutti bestemmia è incredibile la weekend league sul secondo account con giocatori molto più scarsi è uguale a questa uguale una squadra da 400 500 mila crediti fa come questa c'è cazzo da fa tanto non sei tu a decidere non so le skill le mani ole gran gol padrizio le sinistro ho fatto il 91esimo gli ho segnato a sto pischello 12 diri a 3 porco dio mo li vendo tutti me compro porco 2 che sezio cane non so se ci arriva domani me sa che fionno tutti prima di domani raga se sollevano nel cielo questi e prendono il volo manca la squadra l'ho fatto vede scusate lo stava a sbagliare lo stava a sbagliare lo stava a sbagliare ma perché poi tira a di destro Giledin Zidane porco dio oh perché ne marco le più de Mbappé Shrek te prego si si Shrek si Shrek si Shrek che gol strano questo ripreme start e non quitta oh però per codio ste persone indecise nella vita cioè una decisione de Pia una decisione Gesù Cristo hai preso hai premuto già 3 volte start oh quitti adesso sei finito non quitti mai più tocca collasse tutti i game poi te devo premere oh bravo bravo cazzo eh puttana Eva ho fatto tutto il discorsetto ah 9-1 vediamo la squadra del nostro prossimo avversario raga mazza che tilt sti due giorni la WL oh mamma mia IFES United no no mi vede il team si fammi vede il team non schipparlo Allison Gomez Rudiger Mendy Akimi Valverde Pagetà Sterling Mbappé Haaland e Kewel vabbè una bella squadra notevole mamma mia questo che accolla i coglioni avanti indietro passettini passaggi mamma mia viera che busta che hai fatto ma che è 1-0 raga no non me voglio far do oh questo ma rotta il cazzo Gesù non gli fai hanno un passaggio non gliene sbagliano uno bellissima sta palla come fuori gioco ma non è mai vero o lo si chiama bello Shrek bello guarda io non voglio più parlare cioè che cosa è successo lì a Viera è andato in blackout cioè perché non è andato verso il pallone io ci sono andato dritto come ho fatto a pararla perché 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 no regà 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 sto diventando matto ma matto serio sto diventando matto serio ogni tiro è gol ogni tiro è gol Shrek base la butta dentro grandissimo via via dentro Mané Neymar vai Haaland batte punte vediamo come suona adesso con il 4-4-2 quanti so quanti so questo ha messo il 9-1-2 goto De Bruin mamma mia bravo De Bru mané 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 mi sono rotto il capo quanti diri gli ho fatto a questo 18 tiri contro 6 come è passato no regà ma che fa ma facci ma Van Dijk non va sul pallone porco dio se non li prendo io quelli contro mi levano pure il portafoglio non selezionati dai via dal cazzo vaffanculo godo sono matto fracico famo l'ultimo game anche se per come sta andando io avrei dovuto dovuto di basta ci fermiamo continuiamo domani che stiamo più tranquilli invece no invece no andiamo facciamo l'ultima che porta pure zella dillo decal non voglio vedere il team non lo voglio vedere ok sto a perdere ma madonna rumma no regà no 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 dai supero cioè non possiamo vivere così forza non possiamo vivere così dai non possiamo vivere così ogni tiro che mi fanno è golle so delle mozzarella di bufala corri va porco dio por non mi di che vuoi quittare ha quittato sull'1-1 ma mi ha andato a rigiocare De Santos Ter Stegen Van Dijk Rudiger Cancelo Mendy Cross che si Tony Cross titolare regà dai porco dio ma non facciamo scherzi dai forse bello bravo Neymar ottimo tiro bravissimo Neymar ottimo un altro bel gol segnato grande Neymar questa ha fatto davvero bravo Neymar al terzo tiro gli avevamo fatta su è il più difficile ovviamente se è andato a segnare è grandissimo non mi di che non quitto mamma mia mamma mia mamma mia Zidane mamma mia mamma mia raga madre di Dios e questo e questo ovviamente ragazzi è uno di loro uno di quelli che no io non quitterò mai finisce il primo tempo ragazzi di un'emozionantissima partita che stiamo dominando ma che a quanto pare tocca continuare a giocare andai che sei comunque ridicolo cioè c'hai comunque dei problemi nonostante la partita sia una delle cose più pallose che io abbia mai giocato sei comunque un coglione ah pure il suo meno male almeno non so il solo GG che cazzo PEMPE bello due minuti di recupero FIFA sul 6 a 0 ma what oh cazzo questi diritti esterno tutti strani GG mamma mia che palle sta partita raga vediamo di riuscire a fa almeno 16 come ogni settimana ma sta squadra raga è nel CSP spero che vi sia piaciuto il video mi mando un bacione vi voglio bene ricordatevelo ci vediamo al prossimo video prossima stream prossimo qualsiasi cosa ciao amici muah ciao 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 ciao